Musica Allora sicuramente le aspettative sono buone arrivo però da un infortunio e mi sono fatta male tre settimane fa in Brasile facendo una gara di judo e grande slam e spero che comunque sia anche col ginocchio che non è in piena forma di dare il meglio di me stessa sia nella gara squadra che nella gara individuale Beh sinceramente noi siamo uno di qui per loro però ti ripeto questa competizione è molto difficile poi sarà il campo a parlare